Si sono confrontate a Crotone le esperienze di tutto il mondo per quel che riguarda la teleneuro-riabilitazione, un evento di portata storica che ha visto confrontarsi 60 scienziati americani, filippini, russi ed europei. Una collaborazione che può accelerare l'adozione di tecniche innovative per l'assistenza domiciliare. La telereabilitazione, come anche la teleassistenza, estende la possibilità, soprattutto a domicilio e nelle aree remote e rurali, di mantenere un'attività che sia riabilitiva anche medica, oltre l'ospedale. Ovviamente è irrealistico mandare tante assistenze, tanti fisioterapisti, tanti infermieri in giro per le montagne oppure semplicemente nelle varie case. Invece supportare il caregiver che già è presente, cercare di dare indicazioni, stimolare degli esercizi fatti a casa e monitorizzarli dall'ospedale di abilazione può essere una strategia che veramente rappresenta il futuro. Oberon è un progetto a cui sono anch'io molto legato perché con il prof. Dolce l'avevamo discusso all'inizio per capire un po' i dettagli e come svilupparlo. È stato incredibile come è stato realizzato, cioè la possibilità di vedere continuamente, monitorizzare anche i parametri vitali delle persone dall'ospedale di abilazione. E poi dopo chiaramente avere la possibilità di capire quanto mandare il medico a domicilio oppure il fisioterapista. Quindi questo non significa tenere a distanza le persone ma significa tenerle sotto controllo. Uno degli elementi che viene lamentato dai familiari delle persone con grave cerebrolesione in stato veggiativo è l'essere abbandonati, il sentirsi soli. Ora questo è un modo per mantenere il contatto, per far sentire meno solo le persone e soprattutto costituire un punto di riferimento. L'evento scientifico è stato organizzato dall'Istituto Sant'Anna di Crotone, promosso dalla Società Italiana di Riabilitazione Neurologica e dalla World Federation for Neorehabilitation. I servizi sicuramente sono la presa in carico, in realtà non parliamo di servizi singoli, ma di presa in carico del paziente. Il paziente può continuare a ricevere lo stesso trattamento, con la stessa qualità, lo stesso contatto con i sanitari a casa e in questo modo può continuare le cure a casa, al proprio domicilio senza dover ad esempio fare la spola avanti e indietro dalla casa all'ospedale, ma anche si può pensare, si può ipotizzare a una dimissione precoce del paziente dall'ospedale e quindi effettivamente anche a un investimento sulla casa del paziente e sul ritorno del paziente a domicilio.